La pressione è in temporaneo aumento sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, ma segnalata in calo nelle prossime ore per l'approssimarsi di un nuovo fronte sull'arco alpino, prosegue questa fase di estrema variabilità sulla nostra penisola. In Toscana, sabato 19 febbraio molto nuvoloso coperto, con possibilità di deboli piogge o piovigili nella prima parte della giornata. Venti meridionali deboli nell'interno, moderati sulla costa e sui rilievi, in attenuazione in serata. Mari mossi, temperature minime in ulteriore sensibile aumento, massime pressoché stazionari. Sul territorio provinciale molto nuvoloso coperto con deboli piogge, migliora nel corso della giornata. A Lucche sulla Piana, temperatura minima 7, massima 16 gradi. A Castelnuovo Garfagnana e zone montane, minima 9, massima 14. A Via Regge sul litorale, minima 10, massima 16 gradi. Domenica poco nuvoloso per nubi sparse, temperature decisamente superiori alle medie del periodo.